buongiorno ragazzi come state tutto bene innanzitutto prima di partire il video vi volevo ringraziare tantissimo perché l'ultimo video è andato un sacco bene sia di visualizzazioni che di like di commenti è andato davvero benissimo quindi volevo ringraziare tantissimo vi volevo ringraziare anche per l'aumento ormai giornaliero di follower perché ormai siamo a 14.700 quasi 800 e vi volevo dire che a 15.000 iscritti ci sarà uno speciale super super carino quindi spiegatevi adesso possiamo iniziare col video allora oggi purtroppo per fortuna non lo so purtroppo perché mi è piaciuto stare da sola con il mio fratellino ma per fortuna perché sto esaurendo proprio sto diventando pazza perché non ce la faccio più preparare pranzo cena pulire la casa stare dietro a christian veramente proprio sto impazzendo quindi purtroppo per fortuna oggi è l'ultimo giorno che siamo da soli perché domani ritornano i miei quindi i miei genitori detto questo adesso mi prendo dei vestiti da mettere oggi vediamo cosa ne posso mettere oggi metterò non lo so credo di mettere questo con la fascia qui adesso andiamo in bagno così mi vado a non ho intenzione di farmi la doccia perché me la so fatta ieri sera però ho intenzione di sistemarmi ok perfetto adesso mi lavo un po la faccia i denti mi spazzoli i capelli poi mi resto ok la faccia l'ho lavata adesso spazzolo per bene i capelli facendo attenzione a non fare troppo rumore perché la stanza accanto ancora dorme christian che non ho intenzione di svegliare per il momento perché prima io voglio preparare la colazione come ormai ogni mattina sto facendo e adesso mi vesto finalmente ragazzi ok finalmente ragazzi siamo entrati in in primavera è anche cambiato l'orario io sono davvero troppo felice che si farà buio più tardi cioè insomma sono troppo felice non vedo l'ora che arrivi l'estate per andare a mare in vacanza in centomila hotel diversi i video saranno bellissimi insomma ragazzi non vedo l'ora adesso vado a fare la colazione bando alle ciance perché sennò qui non ci svegliamo più ok oggi in realtà volevo fare pan carré con la nutella barra cioccolato non lo so adesso vediamo un pochettino perfetto ragazzi questa sarà la nostra colazione come ho detto pan carré con la nutella buonissimo dio avevo una voglia di nutella stamattina davvero indescrivibile non so neanche il perché in tutta sincerità però vabbè poi prendo due tazze e le riempio con del latte quindi prendiamo il latte ok io mi ci metto anche una piccola gocciolina di caffè perché mi piace di più tipo caffè latte barra cappuccino non so come definirlo in realtà e quindi adesso è tutto pronto intanto mamma mi ha detto che posso farlo cioè nel senso una goccina piccola di caffè io la posso mettere quindi a posto andiamo a svegliare quel dormiglione cristian che dici ti alzi sì ciao sorellona alla buon'ora eh tu mi ora mi hai chiamato io non mi alzo da solo mi deve chiamare qualcuno così ti abituato la mamma sì va bene ah neanche ti sei lavato la faccia vabbè prima mangio poi mi lavo lascio stare puzzi a posto ho fatto ah vabbè niente meglio di niente andiamo oggi siamo tutte e due verdi vestiti oddio si manco ci avevo fatto vaso eh grazie per neanche guardarmi di striscio no ti ho guardato però non me ne ero accorto buono grazie ok dai mangiamo e beviamo anche sì vabbè non hai tutti i torti ok perfetto l'abbiamo finito queste due tazze adesso le lavo e poi non lo so facciamo qualcosa perfetto mi diamo l'acqua eh cosa vuoi fare brutto dormiglione beh in realtà io vorrei dormire però in sostituzione a dormire giocare alla play no no qualcosa di produttivo grazie eh qualcosa di produttivo produttivo non lo so cioè vabbè ma pure io me lo potevo aspettare io che ti chiedo a te di fare qualcosa di produttivo tu qualcosa di produttivo eh un po' complicato che vorresti dire? niente lascia stare ok meglio no comunque giocare alla play no e neanche dormire mmm c'è andata fammi pensare prima ho notato che abbiamo davvero poco nel frigorifero sì perché in questi giorni ci siamo mangiati di tutto shh questo lo deve sapere nessuno l'unica cosa che ci è rimasta sono le verdure le uova sì perché ci stavamo mangiati tutti schifo cibo spazzatura ehm lascia stare qui dobbiamo andare a fare un po' di spesa inevitabilmente no ti prego no la spesa no fidate neanche a me piace andare a fare la spesa ma dobbiamo farla a meno che tu non vuoi mangiare verdure contornate da uova e un po' di tofu andiamo a fare la spesa ecco perfetto andiamo ehm diamo lo zaino vabbè che mi fregano andiamo forza la potresti aprire tu la porta mi scorcio cos'è che ti piace fare? giocare alla play? o dormire? o mangiare? fa niente va andiamo a fare la spesa eccoci arrivati ehm amore della sorellona però adesso vedi di essere produttivo davvero dammi una mano perché fare la spesa da solo senza che tu mi consiglio senza che tu mi aiuti è un pochettino impossibile quindi aiutami grazie ma è la prima volta che entri in un supermercato? beh sì quella anch'io o almeno senza mamma papà è la prima volta ehm salve buongiorno ragazzi simpatico mi dicono io voglio cereali la marmellata il cioccolato il cacao la pilina le patatine placati non intendevo questo ah e anche le lecca lecca non intendevo questo quando ti ho detto consigliami o aiutami ho detto quello che voglio beh sì quello che hai detto tu lo voglio anch'io però calmiamo calmati ti prego calmiamoci basta voglio solamente fare la spesa in tanta pace i spazzolini ma ce li abbiamo i spazzolini e ho capito ho pensato che magari dirti qualcosa di produttivo quindi lavarsi i denti per essere per condurre una vita sana poteva farti calmare prendiamo le buste queste vieni le tu le posso riempire di ciò che vuoi si prendi tutto quello che vuoi ok perfetto ups non c'entrano nella busta le piedine si quelle le devi portare a mano va bene ok ci sono altre cose da poter prendere ad esempio i cornettini i cornetti oh già ho riempito tutta una busta vabbè c'è l'altra i cornetti il caffè il cacà abbiamo la macchietta del caffè non c'è bisogno che compri quello e vabbè in effetti non hai tutti i torti va bene lo lascio e vabbè anche questo tipo di marmellata il riso la spesa praticamente la stai facendo tu tu poi ti occuperai di questo e poi cosa altro voglio di qua voglio il questo per forza questo anche perché mi scoccia a bere sempre acqua le uova ce li abbiamo il formaggio pure il tofu pure purtroppo ha il letto di soia alla mamma che lei è tutta perfettina non lo beve e basta uhuuu Christian dove stai? ma che? mi scusi ma cos'è? eh praticamente in questo supermercato c'è questo marchigegno che ti permette di fabbricare ciò che vuoi ma siamo seri? si siamo seri divertiamoci allora posiamo queste buste qui e vediamo cosa può fare questo coso cioè se io tipo prendo questi fagiolini verdi qua questi e li metto qua no perché è proprio il tofu? l'odio il tofu i viustel no ma non mi piacciono le cose che produce sto coso no 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 se gli metto per caso il latte il formaggio serve questo perfetto sappiamo cosa mangiare per secondo oggi a pranzo o perlomeno come dolce perfetto e la dovremmo mettere tipo su un vassoio vassoio oh si questo va va bene c'ho finto niente fatto e va bene andiamocene prendiamo questo allora una busta la tieni tu e adesso questa busta io la riempio di carne o comunque di cose da mangiare più salutari tra virgolette allora il pollo la carne un po' di pesce no perché il pesce il pesce fa bene sta zitto una volta ogni tanto altra carne non si sa mai del pane perché a casa non ne abbiamo o almeno abbiamo quello ma il pane morbido e poi anche questi lecca lecca te li avevo chiesti io ma cosa salve vorremmo pagare tutte queste cose prego mettete non credete che sia un po' tanto no non crediamo grazie rivederci rivederci mi sa che un po' tanto abbiamo comprato ma che io voglio passare ancora da un altro supermercato mi sembra ovvio beh sì non hai tutti i torti andiamo ragazzi siamo praticamente troppo pieni di roba che neanche sappiamo dove mettere io ho trovato il posto alla torta beh sì bravo vabbè i lecca lecca li possiamo mettere anche qua sopra volendo ok lì sopra abbiamo messo la marmellata i lecca lecca e qua sotto tutti i tipi di cereali patatine cornetti altre patatine di tutto ok ragazzi stranamente abbiamo sistemato tutto non sappiamo neanche come ci siamo riusciti però ci siamo riusciti questo è l'importante e adesso gli metto subito a cucinare e poi stasera voglio andare pomeriggio penso ci riposiamo e poi stasera vogliamo andare a Luna Park insieme a Marcus beh Marta purtroppo non può venire perché è impegnata con la sua famiglia dato che domenica di sera sarà con la sua famiglia mentre Marcus non ha nulla da fare quindi sarà con noi ok ragazzi ho cucinato questa deliziosa coscetta di pollo con attorno un tortino di formaggio fuso e della maionese questo pranzo così diciamo a base di pollo è perché non avevamo voglia di pasta e quindi ho fatto questo sorellona per una volta in quattro giorni che i nostri genitori non ci sono hai cucinato divinamente ma grazie ma grazie che complimentoni comunque adesso qui abbiamo la nostra torta carinissima che vogliamo mangiare lo stesso anche se ci siamo appena scofanati una coscia di pollo all'uno noi vogliamo anche la torta mi sembra logico quindi la mettiamo qui dentro del tavolo e mangiamo e abbiamo finito adesso sistemo i piatti o almeno li lavo e li sistemo il vassoio invece lo buttiamo perfect adesso ci vuoi andare a riposare perché già non ti sopporto più a te ti vorrei fare la fine di quel pollo però lasciamo stare fratellone produttivo ti vorrei avvisare che fratellone che poi sei il mio fratellino ti vorrei avvisare che fra un po' marcus ci viene a prendere quindi muoviti a vestire ti vedi come ti devi vestire non ti mettere quella tuta fluo invece io mi stavo provando a mettere quella perché quella tuta fluo è bellissima è bellissima ok va bene io invece ruberò qualcosina dall'armadio di mamma ma non credo lei si arrabbi per questo perfetto divina 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 ehi ma quello non è di mamma si è di mamma ma me lo sono presa solo per stasera eh attenzione questa fascia mi sembra un po' troppo giornaliera quindi metterò il mio fantastico come si chiama la mia fantastica mollettina non so come si chiama per i capelli comunque bellissima cioè sono troppo bellissima sono troppo bellissima l'italiano è andato a quel paese però io sono troppo bellissima detto questo tu muoviti fatto fatto io non ho bisogno di essere troppo bellissimo come te io mi metto una tuta fluo e sono bellissimo sai cosa sembri un parcheggiatore ambulante non la togliere parcheggiatore ambulante perché se non abbiamo tutte le macchine graffiate è grazie a loro però sembri un parcheggiatore ambulante ma a me piace non è bella quanto immagini crediti credimi non è bella o almeno è bella sono belli colori perché sono molto fluo però nel complesso non ti sta bene ti fa sembrare un uovetto kinder fluo sono buoni gli uovetti kinder sì ma non sono salutari quindi non sono belli e cos'altro mi dovrei mettere scusa vediamo vabbè dimenticavo che i tuoi vestiti fanno alquanto però provati o questo o questo intanto stiamo andando a una parte non stiamo andando alla cena di famiglia questo mi sta così no molto carino più raffinato più fine più carino più semplice questo così non lo so decidi tu sono entrambi molto carini mi sa che decido questo ok molto meglio questo si che è mio fratellino andiamo amore non mi chiamare amore per favore grazie ti chiamo come voglio vieni andiamo ciao amore ciao piccolino vieni ciao marcus il tuo odio nei miei confronti neanche crescendo ti è passato solo io posso chiamare la mia sorellina piccolina la mia sorellina piccolina casomai io sono la tua sorellona gigantesca no piccolina andiamo mi sa proprio che ti odia si è probabile ma io lo voglio bene in fondo ok eccoci che si fa le giostre beh si in effetti avevo tutti ragioni voglio farmi fare un sacco di foto sulle giostre cioè proprio troppe ci mettiamo su questa specie di si va bene ci entriamo in tre non credo vabbè allora facciamo un giro con Cristian vicino a me e un giro con marcus va bene va bene va bene io mi siedo qui da solo è bellissimo ok adesso qui in teoria ci dovremmo fermare quindi blocchiamo il tutto è stato davvero bellissimo sì ma io lo voglio fare più veloce vabbè adesso con lo vicino a me lo facciamo più veloce marcus reggiti sì sì tranquilla mi reggerò casomai voi due reggetevi tranquillo noi due siamo pazzeschi oddio è un po' troppo veloce così sì sorella non lo ammetto mi sa che mi piaceva di più prima ok tranquillo tanto questo è l'ultimo giro poi ci fermiamo sorella mi sta venendo il vomito ma no per così poco ci siamo fermati qui in alto mi sa che conviene farci un altro piccolo giro i due si spaventano perfetto adesso possiamo scendere oddio sorella mi sa che mi piaceva di più prima com'è andata tutto bene che ti sta venendo il vomito dai marcus sto scherzando ragazzi sto scherzando calma tutto a posto sì sì tranquillo andiamo al piano di sotto tanto qua non è vero io voglio fare questo sì però qui sopra io questa però facciamola più lenta magari cioè tipo che a volte rallenta poi aumenta poi rallenta fighissima sta cosa wow è bellissima hop mi sono divertita un sacco questa qua forse mi è piaciuta di più di quella di prima quella di prima era un po' troppo veramente da vomito beh sì un po' salve signora vorremmo tre di popcorn oh sì certo ok grazie mille signora di nulla forse dai andiamo a provare l'ultima giostra e poi andiamo a casa ok venite facciamo questa sembra così carina ok ci hanno fatto la foto velocizziamo oddio allora no a me le giostra così veloci fanno venire il vomito l'ho già detto ok va bene più lenta fine del giro potete scendere grazie grazie mille stampiamo la foto vediamo come siamo venuti è troppo carina me la voglio appendere in camera dai adesso dobbiamo andare a casa si sta facendo davvero troppo tardi ok ragazzi christian è già crollato si è messo subito a dormire mentre io vi volevo salutare quindi niente ragazzi lasciate un bel like iscrivetevi al canale tappate la campanina se ancora non l'avete fatto per ricevere tutte le notifiche di quando pubblico un video di quando sono in live sul canale eccetera e nulla ciao ciao